Continua senza sosta l'attività di contrasto e di prevenzione alla criminalità svolta dai carabinieri della Compagnia di Vittoria. In questi giorni, infatti, nei comuni di Vittoria, Comiso e Acate, i militari dell'Arma di Vittoria hanno svolto mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, con particolare attenzione ai furti in abitazione e nelle campagne, attraverso l'esecuzione di perquisizioni domiciliari, veicolari e personali. Sono state numerose le pattuglie impegnate nel controllo del territorio, sia nell'arco diurno che notturno, con la predisposizione di posti di controllo, soprattutto nelle aree rurali e nelle periferie. I carabinieri della stazione di Vittoria hanno tratto in arresto su ordine di carcerazione emerso dal Tribunale di Sorveglianza di Siracusa, Samul Zouaier, classe 1966 tunisino, poiché durante l'espiazione della pena detentiva in regime degli arresti domiciliari, è stato più volte sorpreso fuori dalla propria abitazione nel periodo compreso tra giugno e novembre di quest'anno. L'arrestato è stato tradotto presso la casa circondagliale di Ragusa su disposizione dell'autorità giudiziaria. I carabinieri della stazione di Comiso hanno tratto in arresto nella fragranza del reato di furto aggravato di energia elettrica, una donna di 26 anni domiciliata a Comiso. In particolare i militari dell'arma, a seguito di mirati controlli, congiuntamente al personale specializzato dell'Enel, hanno accertato che all'interno dell'abitazione della giovane donna era stato costruito un allaccio abusivo mediante un apposito bypass di fili che collegava il contatore dell'energia elettrica alla rete pubblica. Il materiale utilizzato per effettuare l'allaccio abusivo è stato sottoposto a sequestro, mentre l'arrestata, espletate le formalità di rito, è stata sottoposta agli arresti domiciliari presso la propria abitazione su disposizione dell'autorità giudiziaria. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vittoria hanno tratto in arresto in esecuzione all'ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa, un 44enne originario di Vittoria disoccupato. Tale provvedimento restrittivo è stato conseguente all'attività svolta agli inizi del corrente mese di dicembre dai carabinieri della Compagnia di Vittoria che dopo un prolungato servizio di osservazione e pedinamento in abiti borghesi avevano sorpreso in un garage del centro cittadino due ricettatori mentre uno di loro sostituiva, scambiandole tra loro, alcune parti di carrozzeria di due ciclomotori. Quest'ultimi risultati oggetto di furti perpetrati a Vittoria. Dopo il blizzi militari erano riusciti a fermare entrambi, arrestando un 26enne per riciclaggio e denunciando il complice 44enne per ricettazione.